Occio, Occio, sentite cosa arriva dentro, sentite! Vi ricordate quando arrivavamo qua fuori a Cortina? Con lo Schirling, i Ray-Ban, le Timberlands e la mini del Tommaso Turo. E poi entriamo al VIP e dicevo quella frase che è entrata nella storia, non sono bello, e mentre pronunciamo questa stronzata storica, dalla colonna sonora suavemente saliva il dolcissimo piano di Gassimo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!